Buongiorno ragazzi, pochi cavoli e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete potuto leggere dal titolo, andrò a vedere Chelsea Midi FC, una partita in Europa League. Se volete vedere il vlog, se no, cliccate via. Devo andare, sono in ritardo, devo andare in macchina, diventami in macchina, a tra poco. Come si chiama, però sono tutta la futta e praticamente ci vediamo troppo fino a Londra, tra 20 minuti, sono a questa roba. Sono arrivato a Stamford Bridge, ho comprato il program e ho comprato questo a Sharpe Half & Half. Comunque, quando arrivo allo strato e arrivo, lo strato è tra 500 metri, non lo so quanto, però sono quasi arrivato, vi farò sapere quando arrivo. Buongiorno ragazzi, sono arrivato a Stamford Bridge, eccolo qui, sono arrivato a Stamford Bridge e quindi, tra poco entriamo, ci vediamo dentro, appena arrivo e praticamente, guarda qua siamo arrivati dentro, ecco lo stadio, se lo vedete, entri a tra poco. Buongiorno ragazzi, sono arrivato, ecco lo stadio, Stamford Bridge, tra poco entro, speriamo di vedere un bello spettacolo, ecco il mio biglietto. E niente, comunque, ti vediamo dentro. Ragazzi, sono arrivato, ecco il campo. Allora, questi sono tutti i tifosi del Chelsea, tutti questi. Lì, laggiù, sono i tifosi del MOL FC. Sono una buona partita, secondo me. E lì, lì giù, non so se vedi, lì giù. Quella è la panchina del Chelsea e dell'altra squadra. La panchina è dall'altra parte. Ci vediamo tra poco. La squadra sta allenandosi, vedete qui? Allora, quello è Kepa. Addirittura c'è Alvaro Morata, l'ex Juventus, lo conoscerete. Ma poi chiesto per iniziare l'aggiornamento dopo. Comunque, la squadra sta allenandosi, ecco lì, questo è il Chelsea e lì, l'acqua rossa, quello è il Viti. Questi sono i tifosi del Chelsea, questi qua, questi sono i tifosi del Chelsea, quelli lì sono i tifosi del MOL. È stato bellissimo. Aggiornamento dopo. I tifosi, i tifosi, ecco lì. A p***voco. A p***voco. È grandissimo, non so come ha fatto. Ancora 0 a 0. Ancora 0 a 0. Per la giunta partita, proprio niente. Niente, proprio 0 a 0. Quanto il Viti. Quanto il Viti FC, è una partita morta. Morta come al c***o. Non me l'aspettavo questa partita. Comunque 0 a 0 tra Chelsea e MOL. Mi ha aspettato una cosa di migliore, ma 0 a 0. Speriamo che nel secondo tempo più gol o un gol sarà. Speriamo. Aggiornamento. Ho finito da poco. Praticamente i Chelsea stanno facendo veramente schifo. Ancora 0 a 0. Vediamo se c'è. Aggiornamento. Ho visto una partita peggiore di questa. Cioè, l'atmosfera qui è una partita schifosa. Quanto il Viti FC, è una squadra che è grandissima inglese. Non si abbatto il Viti. Ma non è niente, voglio. 1 a 0, Chelsea. Assegnato il Chelsea. Guardate. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Il Chelsea ha segnato. L'ex Juventino. L'ex Juventino. Ha segnato l'ex Juventino. L'ex Juventino fa gol con il Titeon. Assondamenti. La porta in motore del Chelsea. Bellissimo gol. Di testa a gol. 1 a 0. Chelsea. Ha preso la traversa. Addirittura ha preso la traversa. Non ci credo. Che Chelsea. Ha preso la traversa. La fine è troppa. Addio Chelsea. Me ne sto andando. Addirittura. Raga, sto uscendo perché la folla è tanta. Comunque, mettete un bellissimo like a sto vlog. Se volete altri vlog, questo video deve arrivare a 10.000 like se ce ne vediamo. Mi è piaciuto molto. Vedete una partita di Europa League. La mia prima partita di Europa League. Mi è piaciuto molto. Se volete altri vlog, mettete un bellissimo like. E però, o qui a Stamford Bridge, o andrò al Tottenham, o all'Arsenal. Mettete un bellissimo mi piace. Oppure andrò a vedere la Juve. Mettete un bellissimo mi piace. Comunque, il video è qui. Grazie a me guardato. Bellissimo vlog. Bellissima partita. Poteva fare più gol del Chelsea. Per il gol di Alvaro Morata, l'ex Juventino. Che ha messo a 2.000 questa partita. Ciao. Forza Juve. E ci vediamo domani. Ciao.